non ho mai provato a viaggiare in moto tra le nuvole a sfidare il cielo a galleggiare sopra i 5000 metri dove anche muoverò un passo con questa fatica bene partirò da Srinagar in Kashmir con i miei compagni proveremo ad arrampicarci sino alla Lumbra Valley in Ladakh attraverso l'unica via che porta direttamente in Cina non ho usato il verbo arrampicare in maniera casuale ma per descrivere esattamente cosa faremo la base di partenza Srinagar è a circa 1600 metri da lì seguendo la valle del fiume Sind praticamente fino alla sorgente attraverseremo il passo Zoi La a 3600 metri La in tibetano significa passo Zoi è la contrazione di Du Zai La la dea delle quattro stagioni anche se qui per i comuni mortali c'è una stagione sola l'estate il resto dell'anno solo vento ghiaccio e neve Scendendo sull'opposto versante troverò il fiume Dras che scorre dentro la grande catena himalayana e zizzagando dentro i suoi valli lo seguiremo fino a incrociare il fiume Suru che abbandoneremo quasi subito per salire su per la valle del Waka Quando il fiume si asciuga saremo sul Namekla che ormai avete capito vuol dire passo un'altra volta a 3800 metri di quota da qui un salto sul Fautulà a 4300 metri e giù verso la valle dell'Indo che incroceremo a 3000 metri per abbandonarla solo una volta giunti a lei Il resto ve lo racconterò cammino facendo Il resto ve lo racconterò cammini Il resto ve lo racconterò cammino facendo Il resto ve lo racconterò cammino facendo per andare verso il passo Cardongla, 5.400 metri, il passo carrabile più alto al mondo. Superato il passo, scenderò nella Numbra Valley, per costeggiare il suo deserto di Bianchedune e il fiume Siachiano. Mi sento leggero come l'aria, ho l'adrenalina che pompa come in un locomotivo a vapore. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.